Domani è presto, è lo slogan, anche la visione con lanciato per il nuovo corso della direzione del Dipartimento di Architettura e Territorio 2024-2027. Ho voluto condividere con tutta la comunità scientifica, dei docenti, dei ricercatori, ma anche dei nostri studenti, delle famiglie, dei nostri studenti, del personale tecnico-amministrativo, un'idea di futuro che si fondasse da qui, dal centro del Mediterraneo, della nostra Università Mediterranea, appunto con un'idea nuova di architettura e design. Abbiamo tre corsi di studio molto importanti, che sono appunto un'architettura magistrale, la triennale di design e la magistrale di design, che quest'anno è stata così attrattiva di far iscrivere oltre 250 studenti in totale, con una classe, peraltro, che si aggiunge di internazionalizzazione di studenti Erasmus, di studenti di double degree e di studenti per scambi, che vengono dal Marocco, dalla Turchia, dall'Egitto, dalla Spagna e che frequentano le nostre aule. Punteremo molto sull'internazionalizzazione, da questo posto straordinario che è il Mediterraneo, punteremo molto sull'alta qualità dell'erogazione della didattica e siamo molto fortunati, perché i nostri laboratori di ricerca sono aperti anche agli studenti, sono aperti ai ricercatori, agli scambi internazionali. Il nostro dipartimento è cresciuto molto nella ricerca del PNRR, perché reputo che i docenti stanno molto investendo, non sul loro futuro, ma sul futuro, che dall'Università Mediterranea possiamo esprimere sui temi dell'architettura e del design, in un'epoca in cui le questioni ambientali, le questioni climatiche, la trasformazione della città, del territorio e dell'architettura possono sicuramente dare una qualità della vita a tutti, compreso noi che abitiamo in questi luoghi, che sia identitaria e pensiamo che il nostro contributo parta proprio dalle aule con i nostri studenti. Grazie a tutti.